Buonasera, buonasera e benvenuta. Grazie. Grazie a lei. Lei si chiama? Io mi chiamo Margot Cicabonni e sono di Roma e basta. Cicabonni? Cicabonni. Ah sì? Questa è la esatta pronuncia del suo nome? Sì, se sa. Oh mi scusi, tanto. Abbiamo sempre detto Cicabonni. Mi siete sbagliati. Se siamo sbagliati. E scuse moi e scuse me. Allora, la signora Cicabonni e prego tutti di ricordarsi la pronuncia, non sbagliamola mai più, la conosciamo come attrice di grande successo, la amiamo per la sua permanenza nella sede del medico in famiglia, però dove la ritroviamo fra queste sette identità. Allora, Fabrizio, considerando che la signorina è un volto noto, le curiosità potrebbero essere, ha studiato Biologia Marina a Onululu o a 12 fratelli? Ma 12 fratelli, non so, io non conosco onestamente la situazione familiare della signorina, però a 12 fratelli, no, ha studiato Biologia Marina a Onululu. Questa identità vale 2.000 euro. E quindi la risposta complessivamente mette in gioco e in pericolo 32.000 euro. Andiamo a verificare. Per 32.000 euro. Margot Cicabonni. Da Roma. È lei? che ha studiato Biologia Marina a Onululu? Sì. Sì! Sì! Brava! Brava Cicabonni! Evviva! Brava! Ma quando è successo? E soprattutto che ci facevi a Onululu, scusa? È stato un errore, volevo andare e invece sono finita, no. È stata una scelta di vita quando a 21 anni, quindi sette anni fa, volevo veramente diventare Biologia Marina e ho scelto il posto più lontano del mondo e più bello, Onululu. C'è un'università fantastica, ho vede il fine che saltano, le orche, c'è statute stampate. Però oggi tu sei qui per una missione molto importante. Molto, molto importante. Sono qui perché c'è questa meravigliosa campagna di Save the Children che si chiama Everyone. Mandiamo un SMS ai nostri amici ogni minuto. Se ne mandiamo uno, saldiamo la vita ad un bambino. O miglioriamo la qualità della vita dei bambini che sono in condizioni di disagio. Esatto, che muoiono per dei motivi futili per noi. Quindi basta mandare un SMS al 45509 e salviamo la vita ad un bambino. Abbiamo anche i palloncini che rappresentano la volontà di salvare i bambini, di aiutarli. Save me, save me. E allora te ne do uno a te, uno lo teniamo noi sul cuore. Grazie per essere venuta. Grazie a voi. Margot Chicaboni. Ciao, grazie. Grazie se manderete un messaggio per Save the Children.